amici di bici da strada bentornati sul canale oggi parliamo di gomme in particolare di un confronto tra tre gomme specialized con caratteristiche diverse una gomma tubeless da competizione come la s works turbo tubeless ready una gomma ad alta gamma ma con una vocazione un po più endurance come la mondo sempre tubeless ready e infine un copertoncino per camera d'aria che è un grande classico di specialize cioè il turbo cotton con struttura in cotone che vedete montato qui alla mia destra sulle rovard rapid clx parleremo dei dettagli tecnici delle sensazioni che trasmettono su strada io le utilizzate tutte nella sezione 700 x 28 con la sw star mack sl8 con ruote rapid clx che vedete qui alla mia destra che abbiamo testato qualche settimana fa e andremo a dare anche delle indicazioni su quella che può essere la destinazione d'uso ideale cioè diciamo su quale gomma un determinato utente potrebbe andare a scegliere potrebbe essere più adatta alle sue esigenze chiaramente parlando di dettagli tecnici e di sensazioni ci riferiamo in maniera specifica ai prodotti specialize mentre per la destinazione d'uso potremmo fare un discorso anche un po più generale iniziamo con le s works turbo gomma rinnovata gomma tubeless rinnovata nel 2022 è un tubeless pensato per la competizione anche se non è troppo estremizzata questo è un bene soprattutto per l'appassionato per l'amatore abbiamo una struttura con carcassa a 120 tpi due strati sui fianchi e tre strati sulla parte centrale del battistrada a cui si aggiunge un'ulteriore protezione centrale in ramide chiamata black belt il battistrada è a doppia mescola la parte centrale è una mescola t2 che è finalizzata a migliorare la scorrevolezza e la durata nel tempo mentre la parte laterale che anche quella poi con un leggero disegno del battistrada ha una mescola t5 quindi più morbida per ottimizzare la tenuta il feeling in curva anche sul bagnato dimensioni disponibili 700 x 26 700 x 28 e 700 x 30 come anticipato io ho utilizzato la 700 x 28 che ha un peso rilevato di 290 grammi il prezzo va dai 75 ai 85 euro in base alla scelta di fianco nero o fianco para a chi si rivolge questa gomma questa è una gomma abbiamo detto pensata o per il professionista o comunque per l'agonista evoluto o per il ciclista che vuole una gomma ad alta gamma che trasmetta sempre un ottimo feeling e io sono tra questi perché ritengo che la gomma è l'elemento uno degli elementi più importanti della bicicletta perché quello che va praticamente a connettere la bici con l'asfalto con il suole quindi quello che dà più sicurezza e una gomma ad alte prestazioni come questa può sicuramente cambiare migliorare tutto quello che è il feeling che si ha con una bicicletta perciò se c'è un componente su cui a mio avviso non si deve risparmiare è proprio la gomma in questo caso specifico diciamo che il turbo riesce a garantire un'ottima scorrevolezza una grande sicurezza una sicurezza in curva un feeling in curva anche in condizioni di bagnato io ho avuto modo di testarlo in una giornata in cui ha fatto un temporale quindi con asfalto bagnato ma soprattutto e questa è un po la caratteristica del tubeless anche grazie alla carcassa a 120 tpi risulta comodo perché non c'è bisogno di gonfiarlo troppo io sono 67 kg ho viaggiato intorno a compressioni 4.7 4.8 4.9 per fare delle prove e questo è il grande vantaggio del tubeless se ci seguite io sapete che ormai faccio fatica a rinunciare appunto alla gomma tubeless perché tubeless moderni sono molto facili da montare questo si riesce a montare almeno sulle roval rapidice lx praticamente a mano con un po di manualità oppure con gli strumenti ma piuttosto velocemente quindi hanno a parità di prestazioni con prestazioni addirittura superiori hanno pochi inconvenienti e permettono di avere un comfort decisamente superiore rispetto ai prodotti per camera d'aria che su bici la competizione come può essere una tarmac sl8 è un grande vantaggio perché permette di godersi di più le uscite di stare più comodi quindi di faticare un po meno soprattutto sulle lunghe distanze diciamo che è una scelta che può essere quasi definitiva passiamo poi al mondo che è una gomma molto interessante sempre alta gamma che però specialist considera più da endurance quindi se vogliamo non per il professionista quindi con un po meno di attenzione alla scorrevolezza alla leggerezza e un po più però alla durata nel tempo e alla resistenza alle forature si tratta infatti di una gomma che ha caratteristiche molto simili alla s works turbo quindi 120 tpi la carcassa due strati laterali uno stato centrale black belt sotto il battistrada doppia mescola t2 t5 ma in più ha anche una protezione sui fianchi che viene chiamata grid race che fra l'altro è anche piuttosto visibile è proprio visibile a vista spendo due parole proprio sulle differenze fra queste due tipologie di protezione che al di là del posizionamento il black belt che è posizionato sotto il battistrada è in aramidi ma soprattutto ha una struttura molto fitta molto dura perché deve evitare appunto che i corpi esterni possano penetrare all'interno della gomma la grid race invece che si trova sui fianchi è in poliammidi ha un tessuto un po meno fitto quindi un po più rado e è più elastica più flessibile perché perché non serve evitare la penetrazione dei corpi esterni ma evitare pizzicature e eventuali tagli e soprattutto non deve andare a irrigidire troppo la gomma perché perché il rischio di gomme molto protette è quello che diventino poi un po troppo dure quindi meno comode meno feeling e devo dire che in questo specialist è riuscita a trovare un compromesso veramente buono infatti vi premetto non sono un grande amante delle gomme con notevole protezione perché perché non danno lo stesso feeling delle gomme più leggere più da competizione qui però se non avessi saputo che si tratta di una gomma protetta devo dire che avrei fatto fatica ad accorgermi perché permette comunque di avere una buona elasticità una buona sensibilità anche in curva sulla scorrevolezza è difficile su strada dare un giudizio sicuramente non è una di quelle gomme che a volte accade di provare che senti che è proprio quasi frenata rispetto a gomme d'alta gamma è chiaro che un pochino di differenza si sente cioè la gomma è leggermente più rigida quindi per avere lo stesso feeling ho dovuto gonfiarla a pressioni un po più basse 0.2 0.3 bar in meno ed anche un pochino più dura da montare sul sul cerchio perché la gomma è un pochino più strutturata in ogni caso però il peso non è eccessivo per essere una gomma di questo genere 320 grammi secondo me su questa fascia di su questa tipologia di pneumatico siamo su tra le gomme più leggere in assoluto sono solo 30 grammi in più rispetto alla turbo e chiaramente quindi consente a un utente di avere una gomma performante ma allo stesso tempo di stare un po più tranquillo con le forature io ad esempio l'ho usata anche su alcuni tratti di strada bianca senza mai avere problematiche il testo ne ha durato tantissimo quindi non posso darvi un feedback definitivo però il concetto la struttura c'è e anche le sensazioni proprio per questo mi viene da dire che questa gomma nello specifico è un po' la gomma che probabilmente può accontentare una fetta di pubblico più vasta mi avviso un buon 80% di pubblico se non proprio l'agonista più estremo o il professionista che cerca chiaramente massimo del performance massimo della leggerezza tutti quelli che fanno gran fondo comunque anche il ciclista che vuole una gomma che cerca un equilibrio tra la performance la durata nel tempo e la robustezza ecco questa è probabilmente la gomma ideale a proposito di peso c'è da dire una cosa che non vi ho detto tornando sulla turbo che è una gomma abbiamo detto da 290 grammi quindi leggera ma non leggerissima chi volesse qualcosa di ancora più spinto proprio rivolto alla prestazione alla competizione può orientarsi sulla turbo rapid air che è la versione più leggera che viene prodotta da specialist che è quella che si trova di serie sulla sl 8 solo in misura 700 x 26 con un peso elevato di 240 grammi quindi massima performance è chiaro che è rivolta a chi è disposto a sacrificare un po la durata nel tempo e anche la resistenza alle forature inevitabile concludiamo con le turbo cotton quindi un grande classico di casa specialist gomma per camera d'aria con struttura in cotone nello specifico io ho utilizzato la versione hell of the north che praticamente quella da era l'unica disponibile in misura da 28 perché la turbo cotton classica viene proposta o 700 x 24 700 x 26 per rendere questo confronto questo test più realistico abbiamo preferito utilizzare la 28 la struttura praticamente analo è la differenza sostanziale sta nella parte centrale del battistrada che per l'hell of the nord è leggermente puntinata mentre sul turbo cotton è completamente slick sempre protezione anche in questo caso black belt centrale peso della gomma 265 grammi se ci aggiungiamo il peso di una camera d'aria nel caso di specialist che produce camera d'aria molto leggere siamo circa 80 grammi con valvola lunga perché qui abbiamo ruote alte la differenza di peso praticamente non esiste con il less work turbo tubeless io ho pensato la bici completa con entrambi i montaggi sono praticamente 10 grammi quindi chi si orienta su questa gomma non lo deve fare per il discorso del peso ma probabilmente perché preferisce la praticità della camera d'aria rispetto a quella del tubeless o anche perché ha un feeling migliore con la camera d'aria cosa cambia rispetto a un tubeless d'alta gamma diciamo che la bici va gonfiata a pressioni un pochino più alte quindi una bici da competizione come questa risulta essere un pochino più secca più pronta più reattiva ma allo stesso tempo anche un po più dura quindi sulle lunghe distanze un pochino più scomoda anche se c'è da dire che la struttura in cotone per cui io ho un debole se proprio dovesse orientarmi sulla camera d'aria garantisce una migliore flessibilità rispetto alle strutture in nylon tipiche di altri copertoncini e quindi è quella che dà un po il feeling la sensazione più vicina a un tubeless anche se non può dare la stessa sensazione di un tubeless quindi questa flessibilità cosa significa maggiore confort a parietà di pressione scorrevolezza soprattutto sui tratti più sconnessi e un grande feeling in curva questa è una gomma che a me ha trasmesso da sempre un grandissimo una grandissima sicurezza cioè tu sali e ti sembra di averla sempre avuta e questa è una gran cosa per una gomma quindi anche qui come nel caso del turbo tubeless è destinata ad un pubblico che cerca prestazioni che cerca un discreto comfort anche con la camera d'aria chiaramente è disposto a sacrificare un po anche la durata perché prestazioni e durata difficilmente vanno di pari passo io in questo caso l'ho utilizzato poco quindi non mi posso dare un range chilometrico però l'ho utilizzato in passato e non è una gomma che dura migliaia di chilometri chiaramente una gomma da prestazione per chi invece volesse un copertoncino per camera d'aria ma ancora più leggero quindi orientato soprattutto al risparmio di peso Specialized realizza anche la versione per camera d'aria del turbo che in questo caso è in nylon pesa in misura 700 x 28 circa 240 grammi quindi un po più leggero e anche un costo più basso perché qui siamo a 80 euro contro i 50 del turbo quindi può essere un'ottima alternativa a proposito sotto il video trovate una sorta di guida alla scelta con tutte le gomme Specialized tubeless e camera d'aria per avere quindi una panoramica ancora più completa oltre quelle di cui abbiamo parlato in questo video chiudo ricordando quindi le caratteristiche principali gli elementi distintivi delle tre gomme S-Works turbo tubeless sicuramente la performance quindi il compromesso tra scorrevolezza e tenuta di strada con un ottimo livello di comfort tipico del tubeless mondo è la gomma forse più equilibrata quindi quella che si rivolge ad un pubblico più vasto che permette di ottenere un buon compromesso tra prestazioni che non sono a livello del turbo ma sono molto buone e resistenza alle forature turbo cotton si rivolge a tutti quegli utenti che ancora amano la camera d'aria che vuoi una gomma d'altissima gamma scorrevole che dà un ottimo feeling io chiudo qui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito sulla puntuita e seguiteci anche su tutti gli altri nostri canali alla prossima